Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera, applausi, vi abbiamo fatto un live a tutti i ragazzi. Sono molto contenta di essere più in un po' di questa sera, io sono Alice e questa sera avrò l'onore di presentare tutti questi meravigliosi musicisti. E allora, come avrete capito, loro sono le bande giovanili e facciamo subito un grandissimo applauso perché queste bande giovanili sono ben due e sono nate dall'unione appunto delle due bande per un progetto di cui però vi parlerò dopo. Abbiamo quindi la Junior Band del Corpo Civico Musicale di Junior Capie e anche i pianeti di Grosio! Un applauso per i due! 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.